Come ti chiami? Petroni Marco, classe 2000 Francesco Mazzini, classe 2000 Luogo? Portiere Portiere Di dove sei? Sono di Lucca La Spez Cosa ti aspetti in questa stagione? Di fare il meglio possibile e prendere il meno gol possibile Di raggiungere gli obiettivi e crescere settimana dopo settimana Il tuo punto di forza? La reattività Tecnica, determinazione e serenità Il tuo soprannome? Petro Non ce l'ho ancora, spero che durante l'anno mi sia dato Cosa pensi del mister? Mi sono subito trovato bene Che è una brava persona, è un sergente e tira fuori il meglio di ogni giocatore Chi è il tuo idolo calcistico? Buffon Buffon Il giocatore di Serie A con le tue caratteristiche? Cragno E chi mi piace è The Second del Barcellolo Chi è il giocatore più forte del Seravezza? Podestà Il capitano Granaiolo Il più matto? Podestà Ce ne sono tanti, non so ancora bene chi è il più matto Un voto a questa Seravezza Partiamo con un buon 8 dai 10 Il nostro motto? Noi siamo a Seravezza Noi siamo a Seravezza Grazie a tutti Ecco a questa